Alla luce dell'episodio di cronaca di qualche giorno fa, insomma, di violenza da parte di un figlio nei confronti del padre, vogliamo ascoltare lo psicologo Giuliano Fresi. Proprio un commento su una situazione del genere, una conflittualità, diciamo, piuttosto esacerbata. Ma il problema qua non è solamente quello di una conflittualità esacerbata, il problema è del decadimento di qualsiasi principio morale e familiare, secondo cui un figlio, che non so se avete visto l'intervista, parla senza nessun senso di colpa, senza nessun ravvedimento, addirittura si giustifica, dice io sono fatto così, prendere o lasciare, io soffro di epilessia, questo a momenti lo mandava al cimitero il padre. Al di là di ogni costrutto e considerazione psicologica, onestamente io penso che una cosa del genere sia inaccettabile da tutti i punti di vista, quindi siamo di fronte a un decadimento morale, umano e anche familiare, che ovviamente coinvolge in primis la famiglia di questo ragazzo, del genitore, ma evidentemente anche tutto un contesto sociale e civile che purtroppo sta smarrendo la bussola. Quanto contano i miti della violenza, insomma, che vengono veicolati al cinema oppure attraverso i mass media? Contano nella misura in cui riescono a creare, ma più che altro contano perché si perde rispetto al passato un senso critico che consentiva di vedere film anche abbastanza forti, mi riferisco a Arancia Meccanica oppure a Un tranquillo giorno di follia, vedere questi film con un senso critico, capire che era una finzione e capire che era comunque la messa in scena di qualcosa di sbagliato e inaccettabile, mentre adesso, periodo in cui il cinema comunque ha abbassato drasticamente il suo livello artistico e contenutistico, evidentemente viene meno pure il senso critico che permette di dire che un padre che viene picchiato dal figlio ha una situazione inaccettabile in qualunque contesto, in qualunque circostanza. quindi